Il questore della provincia di Vibo Valencia, Rodolfo Ruperti, ha disposto servizi straordinari di controllo del territorio senza sosta, con l'obiettivo di ottenere il massimo risultato, deterrente contro la criminalità diffusa e di garantire sicurezza. Le attività hanno visto impiegati agenti della Polizia di Stato con le sue varie articolazioni, il reparto prevenzione e crimine, la Polizia stradale, nonché un aliquoto di militari dell'arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza e della Polizia Municipale. Sono state inoltre impiegate numerose pattuglie delle volanti della Questura, del commissariato di Serra San Bruno e del posto fisso di Tropea. Proprio in tale contesto, nelle sole giornate del 13 e del 14 settembre, i servizi sono stati particolarmente intensi e hanno portato al controllo di 515 veicoli e 1.085 persone. L'attività di prevenzione, inoltre, ha consentito di monitorare locali ed esercizi commerciali attraverso controlli agli avventori e accertamenti di polizia amministrativa, con un'azione volta a prevenire condotte delittuose attraverso un mirato controllo di eventuali centri di aggregazione, locali pubblici, centri commerciali e vie d'accesso alle varie aree geografiche individuate. I servizi di controllo proseguiranno senza soluzioni di continuità per garantire una cornice di sicurezza, nonché a un pacifico svolgimento di tutte le attività cittadine, compresa una sana movita.